Gentili telespettatori, buona giornata. Monetizzavano il reddito di cittadinanza, accade a Napoli. Fingono di comprare la carne per intascare la spesa di commissione. Che vuol dire? Vediamo un po' la nuova truffa inventata a Napoli. Il reddito di cittadinanza come super bonus rimane al centro delle più grandi truffe ai danni dello Stato. Reddito di cittadinanza come super bonus voluto dai politici per caso grillini, che in quanto politici per caso hanno fatto delle leggi senza sapere come si fanno e le truffe sono arrivate alla grande. Questa volta accade a Napoli, dove c'è il nucleo del reddito di cittadinanza e la zona d'Italia la città dove arriva più reddito di cittadinanza. Alcuni percettori riuscivano a monetizzarlo simulando l'acquisto della carne. Quest'ultima veniva pagata via POS con l'apposita carta prepagata dei titolari e trattenevano per il disturbo come spese di commissione una quota tra il 10 e il 20%. A scoprire la truffa è stato il nucleo di polizia economico-finanziare della Guardia di Finanza di Napoli. Quest'ultimo al termine di indagini coordinate dalla procura partenopea ha sequestrato due complessi aziendali relativi all'attività commerciale della presunta macelleria. Inoltre sono stati trovati anche 92.000 euro in denaro contante e titoli di credito, vale a dire cambiali e assegni nei confronti di tre indagati. I reati contestati sono truffa aggravata ai danni dello Stato e usura. Stando a quanto viene riferito dalle indagini, i tre prestavano denaro pretendendo tassi usurai. E non si tratta di un caso isolato, questa truffa è ben nota, quindi questa è solo la punta dell'iceberg. Prima, anche settimana scorsa, era di nuovo il reddito di cittadinanza finito sulle colonne dei giornali. Si era venuto a scoprire che un boss dal carcere gestiva appunto questi traffici con il reddito di cittadinanza. Pagavano con i soldi della targhetta di credito dell'acquisto di merce illegale. Poi perché le fiamme gialle del comando provinciale di Bologna avevano scovato e denunciato alla procura 44 Rom, che non si sa in quale modo erano riusciti a percepire il reddito di cittadinanza. Alcuni di loro arrivavano ad ottenere, pensate un po', 1200 euro al mese. La somma da restituire di questi 44 Rom, che non restituiranno mai, sono 850.000 euro delle tasse degli italiani o del debito che ha fatto lo Stato, perché questi 850.000 euro pagati a questi truffatori sono stati presi dallo Stato a debito, cioè lo Stato dà questi 850 euro che poi dovrà ridare a chi ha preso in prestito con gli interessi. Pensate un po'. Truffano lo Stato e lo Stato poi deve anche prendere questi soldi e ridarli con gli interessi. Solamente nel 2022 sono state denunciate 29.000 persone per aver incassato soldi che non gli aspettavano. Si parla di 300 milioni di euro, solo scoperti quest'anno, nel 2022. Le falle di questo reddito sono ormai sotto gli occhi di tutti, andrebbe cancellato all'istante e rifatto da capo. Resettare tutto e rifare da capo. Ma non si può, perché ci sono i grillini al governo che stanno pensando a come essere rieletti e a come mantenere lo stipendio. Quindi, in riassunto, lo Stato continua a essere truffato sul reddito perché i politici stanno pensando alle loro cose e alla loro rielezione. Non si è potuti andare a votare per impedire al centrodestra di andare al governo e stiamo pagando con i soldi delle tasse i truffatori perché non si vuole andare ad elezioni anticipate per interessi dei politici personali. Il reddito di cittadinanza è una misura nata con buone intenzioni per aiutare chi era in difficoltà. È finita per la sua stesura di legge in maniera assolutamente superficiale, è finita per essere il bancomat di truffatori di ogni genere. Poi vedo i commenti su questo articolo che ovviamente arrivano i tifosi, i tifosi dei 5 Stelle che negano l'evidenza. Cosa scrive uno sotto? Il reddito grillino è una sciagura, mio cognato ha una tabaccheria. Pur offrendo, 1500 euro netti mensili, non trova personale. I più vorrebbero essere pagati 2000-2500 euro mensili e lavorare solo 6 mesi, altrimenti trovano più conveniente non fare nulla e incassare il reddito tutto l'anno. Già prima gente con voglia di lavorare ce n'era poca, adesso li incentiviamo a stare senza far nulla. Allora, parliamo chiaro. Se uno preferisce prendere 500 euro di reddito che andare a lavorare per 1500 euro, qui non è il problema del reddito di cittadinanza, qui è il problema della persona, che è uno sfaticato, che dice preferisco prendere 4 euro piuttosto che prenderne 1500. ecco, non è colpa del reddito di cittadinanza, se uno preferisce prendere 500 al posto che 1500. Lì va da persona a persona, ma non possiamo dire che è colpa del reddito, assolutamente. Vorrebbero essere pagati 2000-2500 euro mensili. Dobbiamo dire che con l'attuale società, in Germania abbiamo un salario minimo che sono 2300 euro minimo lordi al mese, che si trasformano poi in 1500 euro netti. Sul cognato nella tabaccheria che offre 1500 euro netti mensili e non trova personale, io ho qualche dubbio, ho qualche dubbio, che siano 1500 euro netti mensili. Magari sono 1500 lordi che diventano 1150. Allora, le cose cambiano, tra 1500 e 1150 c'è una bella differenza. Naturalmente, lavorare in una tabaccheria a Bolzano per 1500 euro netti mensili, ad esempio, dove solo affittare una casa, qualcuno di voi di Bolzano mi sa dire cosa costa affittare una casa a Bolzano? Bastano 1500 euro per affittare una casa a Bolzano? Non credo. Quindi, se uno ti offre 1500 euro, anche se fossero netti, per lavorare otto ore al giorno in una tabaccheria e con quei soldi non ci paghi neanche l'affitto, dici, eh, ma bisogna essere in due a Bolzano per poter avere una casa in affitto, perché da solo non ce la fai. Ecco, questo denota un problema della società. Se una persona, da sola, non può permettersi di pagare l'affitto, se l'affitto addirittura ti costa come un mese di lavoro, se un affitto ti costa 1500 euro, che è come quello che prendi al lavoro, c'è qualcosa nella società che è profondamente sbagliato. Profondamente sbagliato. O i prezzi delle case sono al di fuori di quella che è la vita in Italia, o gli stipendi sono al di fuori di quella che è la vita in Italia. Insomma, non è che andiamo molto lontano. Arrivederci a tutti e grazie.